E ritorniamo in Red Dead Redemption 2 con la continuazione del precedente video Allora, dobbiamo salvare la mamma del ragazzo La vedova, John Eeeh, vediamo un po' Però non so dove stiamo andando Esprimere a Mario, vai Eeeh, vediamo un po' I could find a way Get John, Abigail, and Jack out of this mess Give them a lie Seems I left it too late If we can still get Abigail Maybe her and Jack will be okay John, Osea Abigail? Osea Il arma How are you feeling? una favola mi ha dato il ciclo dai non ti arrabbiare ok devono partire non c'è l'occurità allora questo lo puoi dire con me ah Sì Sì E dai Perché non l'ha fatto spaventare? Ecco perché Hanno potuto Ampattare Allora Grazie a tutti. 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 Non so chi è morto. Ricomincio dall'ultimo checkpoint. Ah, Abigail, quello che abbiamo trovato. Eh, non benissimo. Perché non posso usare la mia pistola? Anzi, anzi, il pugilo. 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 Oh, gli ho, gli ho, gli ho, gli ho, gli ho, gli ho. Ah, finalmente vuoi fare il cavallo? No. C'è il tempo. C'è stato con John? Onde c'è John? Non ho... Arthur. C'è... C'è stato? C'è stato morto o c'è stato capturato. C'è davvero scusato. No! Abigail, I'm... I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. We saved it. Mrs. Adler will take you to him. But... John... I'm not gonna know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. Now, you gotta go get that boy. Come on, get out of here. What? Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur to me. Neither of you two. Not now. You both know. You're a good woman. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur. Take this. Eh? Una chiave. There's a chest in the caves. In the back to the left. Hidden under a wagon. Dutchess chest. All our money. I know John told you I knew where it was. I have a game, brother. I've always wanted to go see. That's you, boss. You want to get out of here? I've always wanted to go see. Perchè non vedo la mappa? Oh Ok Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, resta dell'accampamento. 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 Resta dell'accampamento. Bastardo. Allora. Allora. Posso sparare a cosa? Allora. 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 oi io sono già salita e adesso grazie come ho detto ah no, l'ho alpato? my bed arrivo, 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 arrivo aia e adesso? come on come on come on push arthur thank you arthur come on arthur let's go but what about the money? abigail gave me the key i go down there, i'm dead in 5 minutes i have a family that's more important maybe you're right, but you want the money? you go down, i have to go to my family i can't go down there, i haven't done that but i haven't got a lot of money so i can't i can't but i have to go i can't a few years ago come on Che sono questi spari? Stanno sparando a noi? Stiamo in un piccolo cieco, Johnny. Time to rock! Goddammit, they're everywhere! Get out! Johnny, wake now! Let's go! Come on! Come on, we need to get going! All right, Arthur, come on, let's go! E un secondo! Eh... No, I think I've pushed all I can. Come on. You go. We ain't got time for this, not now. We ain't both gonna make it. Go. Now, I'll hold them up. It would mean a lot to me. Please. Ain't no more time to talk. Go. Arthur, go to your family. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. Goddamn you bastards! Don't let's end this fool. Eh, che do fa? Don't let go. I'm out of here. Loch down there. My God. Bastardo. Aia 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 E ti fai picchiare da pomone nero? Aia Sotto mais Da dove arriva, scusatemi E dai Aia Grazie a tutti Grazie a tutti E guarda là Aia Lui fa le prese Aia 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 Attivare tasti permanenti Tasti permanenti consente di sabita questa scelta E' disattivato Può attivarlo quindi? Vediamo un po' Mamma mia Aia Questa è la volta giusta Ci ho disattivato l'opzione corretta Questa è che non avanza? Ok Vai vai Anche l'ultimo sforzo vai vai avanza 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 Ok Yeah Oh I gave you all my hand I did Come on Dutch Let's go buddy We made it We won it Come on Sean made it He's the only one He's the only one He's the only one The rest of us No I tried In the end I did Let's go Come on We can make it We can make it Come on Ichi Come on Come on B W Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti